Stanno facendo dei test. In pratica selezionano cose umane alle quali somministrano un virus. Il virus cambia le persone e li distrugge. Nel sangue dei puri hanno contaminato dei cadaveri col virus che hanno usato su di voi. Cazzo. Fammi scendere. Se mi uccidi, loro resteranno così per sempre. Grazie a tutti.